Risolto il problema della distinzione tra un organico di fatto e un organico di diritto ecco che il concorso avrà una regolarità, coprirà un turnover e quindi avrà una rosa di candidati ovviamente inferiore e sarà un'opportunità di lavoro e di lavoro qualificato. Ha detto che ci sono 600.000 insegnanti che sapranno dove andare, cioè come si fonde questa cosa. E la seconda, volevo sapere se ci sono stati dei dissidi con il Presidente Renzi nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Guardi, la vignetta geniale come spesso fa di Giannelli stamattina sul Corriere della Sera, forse l'ha vista, descrive mi pare meraviglia il rapporto. Cari, quindi che non sanno dove andare e poi ci sarà un organico. Grazie a tutti.